e basta ormai si sono specializzati tutti adesso contrario adesso contrario basta fatta spampi contrario 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 chi si mette in fondo a prendersi prima che entra nel fiume c'ha due slow motion puoi tirar fuori le foto addirittura del video perché il mio tanto devi fare i punti diversa che mi fai le foto per far di tutto ah così così mi piace che dopo viene fuori la foto perfetta con la faccia che mi cago il sole certo e beh quello è bello infatti vengono fuori quelle guarda che lele adesso si è gasato adesso qua canna sicuro sicuro garantito quindi chiappatelo perché canna vedi no ma adesso è gasato che ha fatto questa basta basta no la rifà da là lele lele oh impennato che devo farti la foto chiappalo eh quando gli dici che devi fargli la foto arrivano su a 200 all'ora ciao la mia leva no ce l'avevo in tasca ancora butta ce l'avevo in tasca la vendo al mercatino butta fa niente dopo gli adoro sul casco ma gliela roma sì perché guarda che ti salta dopo allora cazzo non c'ho più paura neanche la discesa ma di solito dai discesa paura occhio basta lasciala lì partito chè io basta solo lì e basta via via che arriva via che arriva via che arriva perché mi sono cagato ad osso che mi metto a mover ho fatto un numero che non hai l'idea ma poi non hai l'idea come fa di solito se apre il rosario siamo finiti ma smetti di vangare ma fai a contrario dai fai a contrario ma se c'è tutti i giorni che sono qua la fai a personale andate andate oh 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 Viamo, viamo! Sì, li faccio imparare sotto voi. Vivo, mio amore! Sì, sai cosa mi piace? Sì, io non ho capito. Non lo salite con la gente lì. Sì, è piccolo a su. Sì, è piccolo a su. E poi facciamo il contrario. E poi devo stare, eh? Eh, va! Non lo faccio, non lo faccio! Non lo faccio, non lo faccio! Non lo faccio, non lo faccio! Non lo faccio! Non lo faccio! Ciappalo, eh! Ciappalo! Ciappalo, perché? Dai, vieni sotto, così! Oh! Vai! Dai, che dopo se va finita si fa mare. Sì, va a andare in fermo, eh! Eh, non cambia niente che fa la curva, no, eh! Apri! Dai, dai! Oh! Possiamo andare a casa, ragazzo! Sempre lo possiamo andare a casa! Sì, no, io... Qua... Sì, è ancora giusto! Anche noi con la prova in terza, andiamo! Sì, è ancora giusto! Sì, è ancora giusto! Sì, è ancora giusto! Sì, è ancora giusto! Passiamo il giusto ancora, basta! Passiamo, 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 passiamo! Sì, stesso giorno, due minuti! Andiamo! Sì, andiamo! Non c'è no! Non hai paura! Non c'è no! Andiamo! Andiamo a mangiare! Andiamo! Dai, l'ultima! Vai! I coglioni! andiamo! Vedi, che non vengono sì! Vedi, non lo vengono in giro! Mauro! Andiamo! Andiamo alla fine! Ragazzi, prima non lo può andare più! Andiamo! Andiamo ragazzi! Andiamo! 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 Guardiamo! Andiamo! 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 bella 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 a capi a voi sopra di una Yamaha Regi amorevole 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 dammi è per il rumore che tu hai fatto sono sempre più convinto che f***a tra me non ne ha di montare sono così a dire mi sembra che scherzi no no, non ti sembra che il motore? è una merda, è una merda si ma è come la motosega poco alla benzina perchè ieri abbiamo due benzina che va bene? non ti arresti andiamo? andiamo! andiamo a mangiare